L'amministrazione comunale di Imperia ha disposto all'accorpamento di diverse attività nella Goimperia SRL, società interamente del comune. La Goimperia è nata dalle ceneri della Imperia Iot SRL e gestisce la banchina di Calatacune a Oneglia e dal 19 luglio scorso anche il porto turistico di Porto Maurizio in affitto dalla Porto Spa. Dal nuovo anno la SRL comunale prenderà anche il posto dall'Imperia Servizi per la gestione dei parcheggi e il comune punta a far confluire nella Goimperia anche la Seris, che si occupa della gestione delle mense scolastiche, anche se ci sono alcuni problemi per i contratti a tempo determinato del personale. Resta invece l'Ast, azienda speciale Tributi, che potrebbe però occuparsi della riscossione anche per conto di altri comuni. Le soluzioni prospettate dall'amministrazione comunale sono state criticate dal coordinatore cittadino di Forza Italia Antonello Ranise, che soprattutto per quanto riguarda le mense scolastiche ha chiesto che la questione venga discussa in Consiglio Comunale. Ranise ha puntato il dito in particolare sui rischi occupazionali per gli attuali dipendenti di Seris e sul fatto che la Goimperia in questo modo rischia di diventare una società troppo grossa e ridondante.